Ragazzi oggi andremo a conoscere il nuovo medio di gamma di Samsung Nuovo si fa per dire perché in realtà vi sembrerà un déjà vu Eh sì infatti perché il Galaxy A52 5G che avete già visto nella recensione Torna nuova vita con un nuovo processore si chiama Galaxy A52s 5G Quindi direte voi, sì ma il vecchio modello è quello un po' il problema Perché quanti di voi hanno acquistato questo modello qua e sicuramente l'hanno anche pagato caro Ecco con questo modello magari l'utente dell'A52 5G potrebbe sentirsi un attimino preso per i fondelli Ma questo è un discorso a parte Lui A52s ha nuova vita, nuovo processore e quindi lo andiamo a conoscere in questa recensione completa Partiamo a bomba, confezioni di vendita A52, A52s in versione 5G entrambi Cosa troviamo all'interno? Beh la stessa identica cosa Stessa sostanza, cavetto USB tipo C, caricatore fast e manualistica e estrattore del vano doppia sim e micro SD Andiamo a mettere le due scatole qua da una parte Ed eccoli i telefoni sostanzialmente identici Stessa forma, stessa superficie, stessi materiali, stesso display da 6.5 pollici Super AMOLED In risoluzione Full HD+, 120Hz Ma vi faccio vedere il posteriore Colorazione diversa anche un po' per differenziare i due modelli A52 celeste, A52s colorazione nera, stesse identiche fotocamere Quindi anche nell'A52s troviamo l'A64 principale 12 grande angolare, 5 profondità, 5 macro video 4K a 30 frame per secondo La selfie cam che ci guarda in alto è una 32 megapixel Vi faccio vedere la modalità scura Quindi un display completamente nero, modalità dark E ve lo metto anche a confronto con la modalità dark del A52 A52, stesso menu, stesse identiche impostazioni Versione software 3.1 One UI, Android 11 Le patch di sicurezza 1 agosto 2021, 1 settembre 2021 Quindi leggermente più aggiornato A52s E allora mi soffermo un po' su di lui Perché abbiamo un bellissimo display che sotto il sole si vede benissimo È molto luminoso, ora abbiamo impostato la modalità scura Ma credetemi, se andiamo proprio a disattivarla Vedrete un gran fascio di luce La pecca magari dell'A52s come l'A52 sta nei bordi Alto e basso, un pochino più marcati rispetto al laterale Torniamo alla modalità scura che ci fa vedere il telefono in maniera molto più figa Cosa cambia rispetto al modello precedente? Beh, se prima avevamo uno Snapdragon 750G Qua abbiamo uno Snapdragon 778G Cosa significa? Significa che il telefono ha maggiore spinta Ha maggior fluidità E grazie anche ai 120Hz Già presenti sul fratello Riusciamo ad arrivare sempre a prestazioni migliori Quindi anche i commenti si scrivono più velocemente Le pagine si aprono più velocemente E il miglioramento si vede specialmente nei giochi pesanti Quindi ora lo andiamo proprio a vedere Intanto vi faccio vedere anche a Instagram come si apre velocissimamente E di nuovo vi invito anche a iscrivervi alla mia pagina JustiTech Mi trovate su Instagram Ci sono tantissime foto di vari smartphone Quindi vi aspetto La prova che mi interessa fare con voi E intanto vi faccio vedere proprio i telefoni che sono identici Sta nel AnTuTu e JigBench Quindi avviamo un gioco pesante Si parte con Asphalt 9 Ovviamente lo provo su tutti i miei smartphone Andiamo insieme a premere sempre lo stesso pulsante Gioca, gioca, gioca Siamo partiti Snapdragon 750G contro Snapdragon 778G E vedete di pochissimo Vince l'A52S Che inizia prima la gara Vediamo se troviamo qualche lag Nel gaming No ragazzi Praticamente secondo me si giocano allo stesso modo Ci soffermiamo un attimo sui punteggi ottenuti con AnTuTu Benchmark Dove notiamo un notevole stacco Della 52S Stacco che ritroviamo anche su JigBench Dove il Galaxy A52S totalizza punteggi superiori E allora torniamo a bomba a parlare del Galaxy A52S senza fare altri confronti Jack per gli auricolari Quindi a filo E ascoltiamo la musica dall'altoparlante stereo Quindi una cassa, due casse in basso Andiamo nella sezione musica E partiamo con un brano Ecco l'audio è veramente alto Ben bilanciato parte alta parte bassa Mi è piaciuto sia il volume che la qualità Ma è lo stesso audio che troviamo sul modello A52 5G Anche su questa versione troviamo l'always on display con l'impronta digitale Quindi possiamo sbloccare lo smartphone subito subito E possiamo sbloccarlo anche con il nostro volto Ovviamente funziona molto bene con buona luce di notte o la sera Va molto in difficoltà Stesso menu dei soliti Samsung C'è poco da dire Non c'è un menu diverso Siamo sempre su quella impostazione grafica Con le stesse possibilità Possiamo usare Smart View per deviare il segnale su una Smart TV Protezione occhi Modalità notte Abbiamo tutto l'ecosistema di Samsung Quindi orologi abbinabili di Samsung Una pacchia Proprio chi ha un Samsung potrà avere tante tante chicche E chi ha lui ovviamente Avrà un telefono di una categoria medio alta A mio avviso si lavora veramente bene con questo smartphone Che ha pochissimi punti deboli Guardate anche il multitasking Come è tutto veloce e chiuda le app in maniera rapida Sempre 6 giga di ram Sempre 128 giga 128 giga che si possono ampliare qua Quindi dallo slot che è ibrido Quindi o due nano sim o nano più espansione Stessa qualità display Non cambia assolutamente nulla Display, fotocamera, audio Cos'è che può cambiare secondo voi? Può cambiare la batteria Usando i 120 Hz sono riuscito a totalizzare 5 ore e 37 minuti di display attivo E vi dico che ho chiuso la prima giornata con l'A52s Con quasi 4 ore di schermo attivo Avevo il 32% Autonomia che va a pareggiare quella dell'A52 5G Quindi in Samsung hanno fatto un ottimo lavoro Hanno creato un processore più potente Pur mantenendo un'ottima durata della batteria E allora, detto questo Non ci resta che andare a vedere la multimedialità Dove non troviamo sorprese Sempre 64 principale Poi la grande angolare da 12 La 5 profondità e la 5 macro Con stessi alberelli per avvicinarsi o meno alla scena Il taglio della memoria Video, video 4K a 30 fps Nella sezione altro Tutte queste impostazioni C'è la modalità notte, macro, ritratto Sempre molto utili Bixby Vision e spazio AR Anche lo scatto singolo E la modalità divertimento Quindi cambiare look E reinventate il vostro modo Con obiettivi Snapchat esclusivi Non ci resta che andare a fare uno scatto al volo Ok, sempre molto veloce E a vedere rapidamente gli scatti Scatti che mi portano a dire che non è cambiato niente a livello di fotocamera Molto buona la fotocamera principale E anche la grande angolare è abbastanza buona Ma soprattutto quello che conta è che non c'è differenza alcuna con la 525G Stessa qualità, stesse fotocamere E stesse ottime impressioni Stiamo parlando di un ottimo camera phone Non è ovviamente un top di gamma Ma nella fascia media Lui potrebbe dominare e sconfiggere tutti i suoi competitors E allora cari appassionati Secondo voi quanto abbiamo speso Per portarsi a casa il nuovo Galaxy A52s 5G Un nome lunghissimo Di listino 469,90 euro Non sono pochi Ma non erano pochi nemmeno quelli Per la 525G Sicuramente in questo video ci siamo resi conto Che chi ha il modello vecchio Per così dire Non deve assolutamente passare alla 52S Perché si ritroverebbe lo stesso telefono Che va un filino meglio Soprattutto chi ha già questo telefono Non si deve sentir tradito da Samsung Samsung la conosciamo Magari si è accorta che con uno Snapdragon 778G Si può usare un filino di più E si può dare quel che mancava a lui Per raggiungere i livelli ancora più alti In soldoni La 52S quindi è il nuovo medio di gamma di Samsung A cui dovete fare riferimento Perché è un telefono molto completo Audio stereo Belle foto sia di giorno che di notte Impermeabile Quindi P68 Ha il jack per inserire i vostri auricolari E un'ottima durata Batteria Batteria che non è stata nemmeno depotenziata Rispetto alla versione più leggera Con lo Snap 750G Super consigliato quindi A patto che non abbiate già acquistato lui E allora In quel caso Lasciate perdere Rimanete con il vecchio modello Fra virgolette E non vi sembrerà di perdere niente E per oggi abbiamo finito Like a palla Se vi è piaciuto stare in mia compagnia Iscrizione al canale Se ancora non lo avete fatto Mi trovate su tutti i social E quindi su Facebook Su Instagram E su Telegram Ragazzi Alla prossima Ciao Ciao